... Imposte sulla casa a meno di una settimana per il pagamento del saldo, la situazione a Udine. Dai cinesi alla richiesta di concordato preventivo, la parabola della storica azienda fordenonese Safof. I pendolari contestano i dati sulla puntualità dei treni e questa sera diserteranno il tavolo regionale. Nei pronto soccorso triestini una donna al giorno vittima di violenza all'azienda premiata per l'assistenza. Grazie alle basse temperature di questi giorni Sella Nevea inaugurerà sabato prossimo la stagione sciistica.